La farmacologia tradizionale cinese si avvale di numerosissime categorie di sostanze medicinali e riesce a utilizzare queste sostanze medicinali utilizzandole e inserendole all'interno di formulazioni che hanno delle regole particolari che analizziamo in questo video. Anche nella farmacologia tradizionale cinese esiste una serie di categorie di farmaci che vediamo brevemente in questa parte della mia relazione. In primo luogo i farmaci che liberano l'esterno, che trattano gli attacchi esterni del vento, del freddo, dell'umidità. E poi i farmaci che purificano il calore, che sono i nostri anti-infiammatori. E poi i farmaci che indirizzano in basso i nostri purganti, lassativi, catartici. E poi Heiji e Yao, i farmaci che armonizzano. Servono per armonizzare le funzioni di alcuni organi addominali, per esempio fegato e pancreas, o fegato e stomaco. E poi i farmaci che drenano l'acqua e trasformano l'umidità. Sono i nostri diuretici. Continuiamo con altre categorie di farmaci e vediamo in primo luogo i farmaci che eliminano il vento e l'umidità, i nostri anti-reumatici, i farmaci che trasformano i TAN, gli anti-catarrali, i farmaci che promuovono la digestione, i nostri eopeptici, e poi i farmaci che promuovono la circolazione del C e del sangue. Ovviamente noi capiamo bene che significa promuovere la circolazione del sangue, ma in Cina si dice che il sangue contiene il C e che è l'energia che muove il sangue e il sangue che è invece il luogo dove si conserva l'energia. Abbiamo poi ancora altre categorie, come i farmaci che eliminano il freddo, che sono dei farmaci potentemente riscaldanti all'interno, e poi quelli che tonificano. Questa categoria dei tonici è estremamente importante perché in medicina cinese si individuano alcuni quadri clinici correlati a deficit dello yin, a deficit dello yang, a deficit del sangue, a deficit dell'energia e dunque questi farmaci tonici sono quelli che sono in grado di trattare questi quadri clinici che spesso sono dei quadri pre-clinici, situazioni nelle quali dunque si può intervenire prima che il malato si ammali. Sifenghiao sono i farmaci che calmano il vento, i nostri anticonvulsivanti. Poi abbiamo i farmaci astringenti che servono per trattenere all'interno liquidi, oppure energia, oppure la sudorazione, oppure anche il seme nel caso di eiaculazione precoce. Da ultimo i farmaci che calmano lo shen, che sono i nostri ansiolitici. Ulteriori due categorie di farmaci sono quelle dei farmaci aromatici che aprono gli orifizi e poi infine i farmaci antielmintici, i farmaci chuchong-yao che eliminano i vermi. Ovviamente su tutte queste categorie di farmaci esiste in questo momento una grande ricerca scientifica se si clicca Chinese Phytotherapy su PubMed troviamo 7.894 ricerche, ma se cerchiamo invece Chinese Herbal Therapy le ricerche aumentano e ne troviamo 28.147, che diventano 171.885 con Chinese Pharmacology. Questo significa che ormai c'è una grandissima ricerca scientifica su questi prodotti che viene effettuata in Occidente, ma viene effettuata anche potentemente in Cina e in Giappone e nei paesi dell'estremo Oriente. Anticamente la farmacologia cinese si basava sulla presenza di quattro sostanze fondamentali che dovevano essere presenti all'interno di ogni ricetta e queste quattro sostanze fondamentali erano in qualche maniera individuate da nomi di governanti. C'era nella ricetta l'imperatore o il sovrano, c'era nella ricetta uno o più ministri, c'era nella ricetta uno o più consiglieri e assistenti e poi uno o più ambasciatori. Vediamo di capire che cosa significa dunque tutto questo con un esempio. Parliamo del Xi Jun Xi Wan, e cioè la pillola dei quattro centiluomini, che è una delle ricette più famose utilizzate in Cina per tonificare il Xi. Tonificare il Xi significa tonificare l'energia soprattutto del sistema digestivo che si esprime quando è carente, con facile comparsa di disturbi gastritici, gastrododinitici e soprattutto difficoltà all'assimilazione delle sostanze alimentari con conseguente ovviamente carenza di energia generale dell'organismo. In questa ricetta l'imperatore è Ren Shen, la radice del ginseng. Il ministro è Pai Ju, il rizoma della trottilodis macrocefala, l'assistente o consigliere è il Fuling, lo sclerozium poriacocos e l'ambasciatore è Kansao, la radice della glicerrisa uralensis. Vediamo una alla volta queste sostanze. Dunque l'imperatore è ginseng. Il ginseng in questo caso serve per tonificare le funzioni del pancreas e della digestione e rinforzare il Xi. Qual è il ruolo dell'imperatore in una ricetta? Il ruolo dell'imperatore è quello di indirizzarsi al trattamento del problema più importante. Questo rimedio dunque è assolutamente indispensabile, non può essere sostituito da altre sostanze all'interno della formula. Generalmente il dosaggio è più alto e l'imperatore della formula di solito è un solo rimedio. Meno frequentemente possono essere due o tre rimedi. In questo caso si tratta del ginseng, che secondo la medicina cinese tonifica il pancreas, il polmone, tonifica alcune forme di energia, genera liquidi organici e ha un effetto anche sedativo. Questo farmaco analizzato secondo la ricerca scientifica occidentale ha visto possedere effetti a livello del sistema cardiovascolare con effetto inotropo positivo, è un anti-iperlipemico, ha effetto a livello del sistema nervoso centrale con azione stimolante per un verso e sedativa dall'altra. Ha un effetto nootropico perché migliora l'attività mentale, ha effetto a livello endocrino, visto che stimola la ghiandola pituitare a produrre maggiori quantità di ACTH, il quale a sua volta stimola le ghiandole surrenali, ma la stimola anche a produrre gonadotropine. Ha effetto antidiuretico, ha effetto epatoprotettivo, antitumorale, antinfiammatorio. Sono tantissime dunque le azioni di questo farmaco che sono state abbondantemente studiate in Cina e in Occidente. Il ministro della ricetta è Paiju, che secondo l'antica formulazione serviva a aiutare il ginseng a prevenire il ristagno di umidità provocato da questo deficit di milza pancreas. Paiju sarebbe dunque il ministro che all'interno di una prescrizione può svolgere due compiti di supporto al sovrano. In primo luogo aiutarlo a trattare il problema principale. Secondariamente può essere indicato per la terapia di sintomi collaterali di rilievo. Dunque capita spesso che le persone presentino dei quadri clinici complessi che sono il risultato dell'intersezione di varie sindrome tra loro correlate. La principale è affrontata dal rimedio sovrano, le secondarie è dal ministro. Spesso in una ricetta ci sono più ministri. Nel caso del Paiju abbiamo detto che questo farmaco aiuta il rimedio sovrano, cioè il ginseng, a trasformare i liquidi. Effettivamente ha un effetto diuretico che è studiato anche dal punto di vista della medicina occidentale, ma ha anche azione antiaggregante piestrinica, è un immunostimolante perché aumenta l'attività dei macrofagi, ha azione antidiabetica, adattogena ed antineoplastica. Fu Ling è il consigliere o assistente che in questa ricetta svolge il compito diuretico di trasformare l'umidità, dicevano gli antichi cinesi. Che cos'è un rimedio consigliere o assistente nell'antica farmacologia cinese? Il consigliere può svolgere più compiti nella stessa prescrizione che vengono denominati specificatamente. C'è il consigliere aiutante che tratta i sintomi collaterali di minore importanza, il consigliere assistente che modera e smorza gli effetti collaterali dell'imperatore e del ministro, o il consigliere di opposizione che sostiene un effetto opposto a quello del sovrano in ricette formulate per patologie gravi e disordini complessi. Bene, Fu Ling ha varie azioni, è considerato un diuretico nella medicina tradizionale cinese, ma possiede anche un'azione antibiotica, possiede anche un'azione antineoplastica, sedativa e cardiotonica. Da ultimo abbiamo CanSau, la radice della Glicirrhiza Uralensis. La radice della Ligurizia ha il compito di armonizzare e coordinare tutti gli altri rimedi di questa ricetta ed è l'ambasciatore, e cioè è quel farmaco che ha il compito di indirizzare la formula verso un tessuto, un organo, un viscere, proprio per questo viene chiamato ambasciatore, e contemporaneamente ha il compito di smorzare alcuni effetti collaterali degli altri prodotti. Spesso l'ambasciatore favorisce anche l'assimilazione, l'assorbimento intestinale dei farmaci e attenua eventuali effetti irritanti sull'apparato digerente. Questo compito è svolto all'interno di questa ricetta dal CanSau, la radice della Glicirrhiza Uralensis, la Ligurizia degli Urali, che ha azione a livello del sistema endocrino, ha azione a livello immunitario, ha una potente azione anti-infiammatoria, ha una grande azione a livello gastrointestinale, per cui effettivamente è in grado di aumentare l'assimilazione degli altri prodotti. Ha un'azione anche antitossica, infatti è in grado di ridurre la tossicità di strecnina, e istamina, ha azione antitussiva, antibiotica, antiperlipemica, antiaritmica ed analgesica. L'intera ricetta che abbiamo esaminato fino adesso è stata analizzata anche dal punto di vista della ricerca medica occidentale e si è verificato che ha un'azione regolarizzante gastrointestinale, ha un'azione immunostimolante, ha un'azione antineoplastica, ematopoietica e dunque esercita effetto tale che può essere utilizzata anche nel caso della radioprotezione. Sono stati condotti svariati studi su questa ricetta, che sono stati condotti in tutto il mondo, ovviamente soprattutto in Cina, sulla gastralgia, sulla gastrite cronica e acuta, sull'ulcera peptica, sulla colite ulcerosa, il colon irritabile, ma anche sulla sindrome premestruale, le menometrologie, la tonsilite cronica e l'epatite cronica. È semplicemente questo che ho fatto, un esempio di una ricetta che serve per capire come l'antica medicina tradizionale cinese nel settore della farmacologia può essere utilizzata secondo gli antichi criteri, ma anche e soprattutto tenendo conto della ricerca scientifica occidentale più moderna.